Gentili telespettatori, buona giornata. Travaglio dice che quelli del PD sono dei bugiardi, non hanno detto la verità, hanno mentito e così si sono presi le conseguenze. E assolutamente mi trovo d'accordo con Travaglio. Che cosa dice Travaglio? Ritorna sul caso Cospito e scrive un editoriale su Il Fatto Quotidiano chiedendosi perché i parlamentari del PD non abbiano detto subito la verità. Perché Del Mastro e Donzelli hanno svelato l'incontro con i mafiosi. È avvenuto, ci sono le intercettazioni, è scritto nero su bianco su un verbale della polizia penitenziaria, non del giornalino Il Paninaro. Il giornalista approfondisce il tema dei Dem al 7 febbraio a 8 e mezzo da Lilli Gruber. Dice Il PD aveva un rigore a porta vuota da calciare perché Donzelli, informato da Del Mastro, aveva svelato delle cose e li aveva accusati di collusione con la mafia. Potevano tirare la palla e fare gol perché non c'era il portiere, ma per tirare quella palla avrebbero dovuto prima sincerarsi che i loro quattro piddini parlamentari che erano andati a trovare Cospito in carcere avessero detto la verità. Invece si è scoperto che avevano mentito. Avevano mentito perché erano andati a trovare Cospito, dice Travaglio, gli hanno detto, Cospito ha detto ai quattro parlamentari, Prima di parlare con me, dovete andare a parlare con i miei vicini di Cella. E loro, sì signore, sono andati a parlare con i capi della mafia. Roba da matti. Loro, invece di dirgli che erano venuti a parlare con lui del 41 bis, sono andati a parlare con i boss, hanno eseguito gli ordini di Cospito. Quattro parlamentari, Orlando, ex ministro della giustizia, prende ordini da Cospito. Prima andate a parlare, sì signore. E quelli vanno a parlare con i capi della mafia in carcere. Poi, quando hanno detto che stava per venire fuori, quando i quattro hanno capito che nei documenti ci sono le informazioni dove c'è scritto che loro sono andati a parlare con i boss, loro hanno detto, abbiamo fatto un saluto, come va, tutto bene, caldo, freddo, non ci sono più le mezze stagioni, caffè, cappuccio. Ci siamo andati a fare un salutino, uno va al 41 bis, carcere di massima sicurezza, va a parlare con un ergastolano, e poi va a fare un salutino nella cella vicino, dice, oh, oi, 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 che fate? Eh? Novità? Novità? No, niente, tutto solito. E tu? Oh, tutto solito, solita vita. Ecco, hanno detto che sono andati a fare un salutino. Ma vi rendete conto? Hanno fatto un saluto. Weee! Un saluto. Ma il rapporto della polizia penitenziaria, che non è del giornalino Il Paninaro o Preppi, ma la polizia penitenziaria, non parla di saluto, ma di lunghi colloqui con i boss. Diversi minuti di confronto sul 41 bis. E come si trovavano quando c'era Orlando, quello che stava parlando con loro, rispetto ad oggi. Eh, quando c'eri tu Orlando, oggi che c'è Nordio, o mamma con questo Nordio. Dato che non c'era niente da nascondere, se non c'era niente da nascondere, dice Travaglio, dovevano dirlo prima, invece hanno mentito, si vergognavano. Allora avrebbero potuto calciare quel rigore a porta vuota. Non avendolo detto ed essendo stati costretti ad inseguire, alla fine la gente ha detto che è più grave quanto hanno fatto loro che quello che ha fatto Donzelli, dicono i sondaggi. È più grave non dire la verità che dirla violando un segreto. E Travaglio ha detto una cosa giusta. Per gli italiani è più grave i quattro bugiardi del PD che Donzelli che racconta delle cose riservate per far capire agli italiani con chi hanno a che fare e chi hanno votato. Vi chiedo a voi, è più grave Donzelli che fa delle rivelazioni su materiale non divulgabile, ma non segreto, ma non divulgabile, non accessibile a tutti, è più grave Donzelli che dice questo in Parlamento o i quattro che hanno mentito ai loro elettori e al popolo italiano? Io voto per Donzelli. È più grave quello che hanno fatto i quattro che hanno mentito. Eh sì, anche un ex ministro della giustizia. Ma perché si sono prestati a questo? Ma chi gliel'ha detto di prendere la macchina e andare al carcere a visitare questo cospito, a sincerarsi delle condizioni di salute? Ma ci sono andati i medici, i medici, e hanno detto che sta benissimo perché sta prendendo degli integratori alimentari. Lui stesso intercettato, dice il generale, lui stesso intercettato, dice questo è lo sciopero della fame più falso della storia. Aveva messo su 120 chili per poi cominciare a dimagrire prendendo degli integratori alimentari che la polizia penitenziaria ha visto perché ogni detenuto può comprare delle cose ogni settimana e lui comprava questi integratori alimentari per perdere peso e far vedere che stava deperendo. Insomma, ci siamo capiti. E questi del PD vanno lì e si fanno comandare a bacchetta da quello che dicono un personaggio carismatico. Questo cospito, dicono, è un personaggio carismatico e, insomma, assolutamente non pentito di quello che ha fatto in passato. Infatti era stato graziato dal Presidente della Repubblica, era uscito e aveva continuato a fare quello che faceva prima e gli è andato all'ergastolo, insomma. Poteva cambiare vita, poteva fare dell'altro e invece ha deciso di passare i suoi giorni, tutti i suoi giorni della vita in prigione, insomma. Ognuno è libero poi di fare quello che vuole e di prenderne le conseguenze. Io e lui avrei scelto magari una vita diversa, però, ognuno. Grazie a tutti, arrivederci.